All'interno di un hotel, il rischio incendi è un pericolo reale che non va sottovalutato. Basta una piccola disattenzione e quindi basilare scegliere un sistema antincendio sicuro ed affidabile che tuteli l'incolumità delle persone e della struttura. Dalla ricerca AVE è così nato Dominant Incendio, un sistema di rilevazione automatica flessibile ed espandibile in grado di proteggere nel modo migliore ogni tipologia di albergo, dalle piccole realtà a quelle più strutturate e complesse. Ciò che distingue Dominant Incendio dagli altri sistemi di rilevazione è però la sua perfetta integrazione con Dominant Hotel di AVE. In caso di incendio, Dominant Hotel di AVE e Dominant Incendio sono in grado di comunicare tra loro mediante un'apposita interfaccia che invia le segnalazioni ottiche ed acustiche alla reception, riducendo, fin quasi ad annullarsi, i tempi di intervento. Dominant Hotel di AVE e Dominant Incendio ed il vostro business non andrà mai in fumo.